Giacomo, buonaventura, un giorno importante per te quello di oggi. Sì, sì, un bel giorno. Pugli anni, diventi vecchio. Sono un anno più vecchio e nel calcio non è mai una bella cosa, però va bene, sono contento, ho ricevuto tanti messaggi d'affetto, quindi volevo ringraziare tutti. Giacomo, domenica si sta avvicinando l'appuntamento con il debutto stagionale in campionato e al comunale arriverà questa Lazio che è comunque sempre squadra alla vigilia, importante da tenere in considerazione. Come lo sono tutte, però è ovvio che quando si parla di certe squadre... Sì, sì, certo, la Lazio è una grande squadra, anche quest'anno, l'anno scorso ha fatto un gran campionato. E niente, cercheremo di preparare la partita bene, sappiamo che è importante, giochiamo con il nostro pubblico, giochiamo a Bergamo, ci teniamo tutti molto a far bene, quindi cercheremo di portare a casa più punti possibili. La tensione, la giusta tensione d'avvicinamento a questo appuntamento? Sì, sì, beh, dobbiamo preparare la partita sin dall'inizio della settimana, perché farlo a fine settimana magari può essere tardi, quindi già da lunedì abbiamo fatto salire un po' la concentrazione, l'attenzione e l'attenzione che sono cose importanti per affrontare una grande squadra come la Lazio. Hai detto in apertura di intervista, tuo compleanno, tanti gli auguri che ti sono arrivati, anche attraverso la pagina ufficiale di Facebook. Buon compleanno quindi anche da parte del sito ufficiale. Giacomo, insomma, bisogna ringraziare questi tifosi. Eh beh, senz'altro, è d'obbligo, perché mi stanno sempre vicino e anche oggi, insomma, l'hanno dimostrato, con tutti i bei messaggi, quindi non finirò mai di ringraziarli, ma oggi lo faccio veramente col cuore, perché mi hanno reso la giornata, insomma, ancora più bella.